Ehi, stai bene? Spegni il motore e aspetta gli steward, è stato un bu... Lo fai sembrare. Ehi, stai bene? Aspettati di vedere pioggia tra 10 e 15 minuti. Ehi, stai bene? Ehi, stai bene? Ehi, stai bene? L'incidente è in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Fa' attenzione. Ehi, stai bene? Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car.